prendiamo confidenza col giochino, lasciamo vedere la palla brava lei deve risolvere un problema a volte noi stiamo a comprare tanti giochi difficili ma possiamo farli divertire con giochi facili questo è semplicemente un secchio lei deve riuscire a prendere la palla nel momento in cui riuscirà a prendere brava ok, gliela lasciamo un attimo a giocare questa cosa qua, Aleph, aiuta i cani ad esempio difficili che hanno tante paure gli aiuta a risolvere in generale i problemi perché hanno risolto questo problema e riuscirà a risolvere un altro problema più facilmente se lo ripetiamo